Tutto qui, questo è l'episodio perduto, questa è solamente una specie di videoclip da quattro soldi! Mett'elusione! Spongebob ci ha traditi! Che stupido sono stato a creare il suo maschile, che stupido! Voglio tagliare di mezzo a tutta questa robaccia di Spongebob! Tutta quanta! Tutta quanta! Tutta quanta! Non posso più sopportarlo, devo scappare via di qui! Aspita, che testa calda! Ed ora è il vero episodio perduto! Ehi, torna indietro, non è finito! Dici davvero? Orrà! Dai, guardiamolo!